Torna finalmente alla vittoria Lisernia tra le mure amiche imponendosi per 1-0 sul San Nicolò. Non concede nulla alla squadra di casa e gli ospiti, sicuramente più forti sulla carta, non mettono per nulla in difficoltà i biancocelesti, che già al quinto minuto di gioco sbloccano il risultato. Mozzoni commette fallo su Mingione, il signor Cascella della sezione di Bari indica il dischetto. A trasformare ci pensa Capitan Panico, che torna così al gol. Il gioco nella prima frazione è molto intenso, al dodicesimo assistiamo a questa punizione di Ruggeri, che dalla distanza calcia con precisione, ma Calore sventa. Il San Nicolò ci prova al venticinquesimo con De Gidio e la palla termina alta sulla traversa. Sul vantaggio di casa dunque si guadagnano gli spogliatoi. Siamo alla ripresa, al quinto minuto Lisernia asciupa il calcio piazzato di Simonetti, nessuno ne approfitta e così Calore fa sua la sfera e la possibilità di raddoppio dell'Isernia. Il secondo tempo prosegue a ritmi blandi, fino al diciassettesimo infatti annotiamo soltanto l'espulsione di Girardi per somma di giallo. Di lì a poco anche il mister Gioffre sarà allontanato. Al diciannovesimo ci riprova Ruggeri da calcio piazzato, ma ancora nulla per lui. Alla mezz'ora è Simonetti a servire Mingione, ma la sua conclusione centrale non desta preoccupazioni. Al trentottesimo invece l'occasione più pericolosa del San Nicolò nasce dai piedi di Cicchella, ma è solo un brivido per l'Isernia con la sfera che si stampa sul palo. Sulla libertuta ci prova di testa Bucchi, ma nulla da fare e di risultato è salvo. L'Isernia porta a casa i tre punti e ricomincia a lottare per la salvezza.